Ben ritrovati, mai mi sarei immaginato di ritrovarmi a fare questo contenuto oggi, non era assolutamente previsto ed era impossibile prevederlo. Vi dico subito che credo, credo, nella mia testa è così, poi vedremo dove porteranno queste strade, ma credo che questo sarà l'unico contenuto che farò sulla vicenda. Perché, come ben sapete, non mi piace più parlare di calcio, di partite, di mercato, di analisi, anzi, mi fa piacere anche aver portato l'analisi di questa mattina, di ora di pranzo. È stato un contenuto che mi sono divertito a fare, quest'anno avevo la possibilità di parlare tante volte di analisi tattiche delle partite, perché ci sono sempre delle cose da andare a evidenziare con Tiago Motta che stiamo imparando a conoscere meglio. Però non potevo non parlarne, perché è una notizia questa che è molto pesante all'interno del mondo del calcio, con gli arresti di una decina circa di capi ultras legati a Milano e Inter. È un argomento che non mi sorprende, è un argomento che conosciamo già, tra l'altro, anche Juve è passata da questa tematica, mi sembra, nel 2019, a settembre 2019 se non erro, quindi cinque anni fa. La mafia dentro le curve, mi sembra una frase tanto banale come dire che l'acqua è bagnata. È una cosa che sappiamo ed è una cosa che non deve meravigliarci. Il punto è poi come affronti queste situazioni, perché all'epoca Juventus riuscì a denunciare, a trovare la forza di prendere il coraggio a due mani e denunciare. Una decisione impopolare dal punto di vista dei fedeli della curva, perché vai a toccare quelli che sono i rappresentanti della squadra dal punto di vista del tifo organizzato. E vai ovviamente a toccare i soldi legati alla compravendita di questi tagliandi, di questi biglietti che venivano lasciati. Io non so se ci saranno repercussioni sportive su Inter, Milano, queste cose, sinceramente non ne ho idea e non è nemmeno la mia volontà mettermi qui e fare un discorso di questo tipo. Dico solo una cosa che credo vada detta, che se ti ritrovi nella situazione, nella condizione che secondo me è diffusissima, cioè praticamente credo che ogni squadra di calcio, anche non a livelli serie A ma anche a livelli minori, abbia questa problematica. E se ti ritrovi coinvolto da tifosi che minacciano le società, se non mi dai il biglietto o se non fai questo, se te ne vai, se vendete questo giocatore, allora noi facciamo casino, facciamo chiudere le curve, non vi facciamo più andare allo stadio, anche quelli che non c'entra niente, perché questo è un cane che si morde la coda e ne abbiamo parlato proprio in questi giorni, in queste ore, quando abbiamo detto che non aveva senso punire tutti i tifosi del Napoli e farli stare a casa dalla partita con la Juventus, non aveva senso punire i tifosi della Juventus nei confronti della Sampdoria, del Genua, di quanto è accaduto nei derby con la Sampdoria. Cioè noi viviamo in una società in cui non vengono puniti i colpevoli. Noi viviamo in questa società. La curva viene identificata come la curva, non signor Mario Rossi, signor Stefano Bianchi. La curva, i tifosi. Eh no cazzo, un appello è questo alle alte cariche. Iniziate ad assumervi delle responsabilità, perché se le curve possono andare a ricattare, a minacciare le società dicendo se non mi date duemila biglietti per la finale di Champions, allora noi facciamo casino, perché andate a chiudere tutta la curva invece che punire chi deve essere punito. è colpa vostra, è colpa vostra le istituzioni che dovrebbero lavorare su questa roba e invece si grattano il sottopalla sudato e fanno tutto alla velocità della luce perché i caffè al bar mica si bevono da soli. E intanto gli stipendioni invece si portano a casa ad alti livelli. E allora, se queste persone possono ricattare, perché di questo stiamo parlando, le squadre, è possibile soltanto per colpa vostra, che dovreste lavorare e invece non fate un cazzo. Ed è anche colpa delle squadre da un punto di vista di tecnologia. Quanto sono pronti gli stadi, quanto sono all'avanguardia gli stadi, che strumentazione hanno per punire i veri colpevoli? E questa è una tematica. Investite su questa cosa in tutti gli stadi per cortesia. Non andate a far chiudere interi settori dello stadio. Togliete sta gente dagli stadi. Non togliete la gente che è innamorata del pallone crotola sul prato verde. Perché se no ammazzate il calcio. Se no ammazzate il calcio. Ed è normale, ed è naturale che si creino questi business, perché sono business, illegali e mafiosi, illeciti. Poi sulle società devo dire una roba. Ripeto, la Juventus ha preso il coraggio a due mani, ha denunciato i propri tifosi e ha dato il via a un'inchiesta in cui Juventus è risultata parte l'esa. Perché per me anche Milan, Inter e tutte queste squadre sono tutte parte lese. Non c'è colore della maglia in questa situazione. Bisogna veramente rendersi conto di questa cosa. Non c'è colore. Non c'è tifo. Non c'è supporto questo piuttosto che quell'altro. È lo sport, chiamiamo, che è il calcio. Tutte le squadre sono parte lese. Però, se dietro queste richieste e questi incontri e questo legame, diciamo così, molto stretto tra gli allenatori, i giocatori, i dirigenti e i capi ultras, questo legame che è un po' particolare e si sono lette anche un po' di intercettazioni che anche lì io non sono grande fan. Anche qui non c'entra niente i colori ma di vedere le intercettazioni sui giornali quando ancora deve aprirsi tutto. Quella roba lasciatela agli atti e se si apre un processo andate ad esaminarla nelle sedi giuste. Ma che cos'è sta roba? Ma che modo di fare è? Ma che cos'è? Ma dove siamo? Ma siamo veramente delle bestie? Siamo veramente degli animali? Perché ci viene sempre la via più veloce quella meno faticosa. Non importa fare un lavoro fatto bene porta a farlo e cazzo me ne frega devo far venire sera poi torno a casa che se ne frega se ho lavorato bene o ho lavorato male. Veramente. Roba vergognose. Però queste società queste squadre che per me sono parte lese e cazzo se non se vi mettete a collaborare senza denunciare senza prendere la questione seriamente e andare ad informare gli enti competenti che spesso e volentieri comunque sono incompetenti però fate qualcosa cioè non assecondateli non siate omertosi perché cazzo non può una squadra dirgli sì ok va bene ma non esiste ma non esiste e fate parlare anche le persone competenti con questi signori per cercare di tenerli a bada raccogliere quante informazioni possibili e poi denunciare il fatto perché se no siete semplicemente complici mi rifiuto di pensare che che debba essere messo Simone Inzaghi in questa situazione in cui deve parlare con sta gente in cui magari sarà pure spaventato cazzo il suo mestiere far allenatore di calcio mica di parlare con il capo ultras della curva perché questo vuole i biglietti per la finale di Champions se no fanno gli scioperi nelle partite importanti ma stiamo scherzando ma stiamo ripeto è una roba che non mi sorprende perché nella mia testa è sempre stata così in tutte le squadre e non solo di Serie A poi è ovvio che leggerle queste cose provoca comunque un certo senso di perplessità non stupore ma perplessità sì perché se la risposta delle società a questi ricatti che di ricatti stiamo parlando è ok adesso sento Zanetti sento Marotte vediamo cosa riusciamo a fare allora mi spiace non essere partelesa ma essere complici essere complici e anche omessa denuncia in un certo punto di vista io mi ricordo Antonio Conte che finì dentro il filone calcio scommesse ai tempi del Siene dell'Arezzo mi pare e pagò con l'allontanamento della panchina della Juve il suo secondo anno per quasi tutto l'anno e la colpa di Conte era non aver denunciato perché non poteva non sapere cioè Conte non aveva fatto niente all'interno del discorso calcio scommesse però dato che era allenatore della squadra in cui alcuni giocatori si vengono le partite Conte non poteva non sapere siamo veramente eravamo a dei livelli anche lì una storia meravigliosa io non capisco cioè ora sono meravigliato di sentire che Simone Inzaghi in prima persona si metteva a disposizione di queste persone e mi meraviglio che l'Inter non abbia preso dei provvedimenti e che non abbia fatto qualcosa per impedire questo ricatto cioè non mi viene in mente un'altra parola se non ricatto quindi sì per me le squadre sono parte lesa perché questi non sono tifosi queste sono persone che non hanno a cuore la maglia la storia il tifo il supporto no sono delle persone che hanno trovato un business dentro all'attività più amata dagli italiani probabilmente che è il pallone non sono tifosi che sia ben chiaro ed è giusto che queste persone allo stadio non ci entrino ed è giusto che queste persone vengano arrestate processate e tutto quanto però l'appello di uno stronzo quale sono io alle società di calcio è ma non collaborate con sta gente ma denunciate lo so sono decisioni impopolari perché poi le ripercussioni della curva le abbiamo viste anche noi in questi anni quanto è cambiata la curva della Juventus dopo quell'inchiesta a Last Banner quante cose sono cambiate non è più la stessa cosa è diverso ce ne stiamo rendendo conto c'è una sorta di guerra civile dentro la Juve da questo punto di vista e pian pianino si sta tornando a vedere qualcosa in più dentro lo stadio ma siamo a dei livelli lontanissimi rispetto ai primi anni di stadio io me lo ricordo io c'ero io ho fatto due anni secondo e terzo di conte di abbonamento ed era una bolgia quindi capisco che poi ci siano delle ripercussioni pesanti anche a livello economico indubbiamente però bisogna prendere il coraggio a due mani di non cercare questa roba perché se no si diventa semplicemente complice questo è tutto quello che devo dire su questa situazione quanto accaduto oggi nel mondo sportivo ripeto nella mia testa non c'è la volontà di fare altri contenuti di questo tipo perché la mia posizione questa è e non può cambiare vedremo se ci saranno delle ripercussioni a livello sportivo cosa che non credo sinceramente non penso quanto più magari ci possono essere delle ripercussioni sui singoli ecco questa cosa di Simone Inzaghi per me è una cosa che in qualche modo lui pagherà dal punto di vista della sua carriera con una squalifica una multa non ho idea però non aspettatevi altri video sull'argomento almeno con quelle che sono le informazioni al momento attuale perché non è mio interesse parlare di queste tematiche era giusto farlo perché è una notizia impattante dal punto di vista mediatico sul nostro calcio l'ennesima bomba estracampo sul nostro calcio che non finirà mai di stupire ma anche di di essere esattamente come ce lo immaginiamo in testa perché alzi la mano chi è sorpreso di sapere che certe persone sono dentro le curve delle squadre di calcio non vedo mani alzate non vedo mani alzate grazie a tutti